Filippo Decolla, avevi già stato decisivo qua in casa contro il Trapani, oggi il tuo gol ha dato veramente una bella ammazzata alla Feralpi anche perché è arrivato in un momento di totale equilibrio della partita. Sicuramente sono felicissimo per il gol, soprattutto perché è venuto in un calcio piazzato, battuto da Igli, che ci crediamo tanto in queste palle, siamo veramente pericolosi. E poi sono felice per la squadra sicuramente perché ha dato una buona spinta e sicuramente dopo ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, tutto il nostro animo per poter vincere questa partita, è stato veramente importante. Ecco, la Feralpi è stata pericolosa praticamente solo nel finale, questo insomma è una bella notizia per voi, la Feralpi è una squadra che in trasferta aveva già vinto 5 partite. Sicuramente era una squadra che veniva da un rullino di partite molto importante, 5 vittorie e un pareggio, non era da sottovalutare, anzi da prendere con le pinze. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo tenuto il possesso palla dall'inizio, abbiamo creato, riprovato, ricreato e abbiamo trovato il gol che ci ha sbloccato la partita e poi comunque avevamo la testa, diciamo, tra virgolette anche più libera e quindi abbiamo, diciamo, abbiamo fatto le nostre azioni con più libertà, diciamo, sapendo di avere il gol di vantaggio. Però comunque sempre rimanendo attenti. Ecco, per Filippo De Colle, se oltre a giocare bene fai anche dei gol, per l'Entella c'è il pericolo che qualche squadra di Serie B ti osservi un po' troppo. Beh, fa piacere, però io penso giocare e finire il campionato qui perché questa è una società che comunque mi ha acquistato, ha creduto in me fin da subito. Io per adesso sto lavorando al 100%, do tutto a me stesso per questa società, per il Presidente, perché sicuramente hanno creduto in me e niente. Adesso è continuo, mancano, mi sembra, sette partite e si vede fino alla fine con il cuore, con la testa. E non è un caso che oggi abbiano segnato i due giovani, insomma, questa società, questo tipo di politica la sta portando avanti da tempo. Ma infatti io sono felicissimo anche perché oltre comunque a noi applicarci come giovani abbiamo comunque dei, tra virgolette, vecchi che ci danno una mano e ci consigliano sempre le cose giuste e questo è importante soprattutto, c'è un bel mix, c'è un giusto mix importante e siamo felici tutti per questo. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie.